Sono 300 i brand di aziende italiane che parteciperanno quest'anno ad Arezzo alla quinta edizione di Gold Italy, la fiera dedicata alla gioielleria da sabato 21 sino a lunedì 23 ottobre. Gli espositori arrivano da tutti i distretti orafi italiani, Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano e Firenze. In città ovviamente per la manifestazione targata IEG anche buyers provenienti dai principali mercati mondiali del settore. Ci aspettiamo innanzitutto di fare una bella figura, quindi di fare una fiera che funziona, di fare una fiera che accoglie bene i clienti e che i clienti trovino e troveranno aziende con un prodotto davvero valido e innovativo, troveranno il meglio del Made in Italy e da questo incontro speriamo che vengano fuori molti ordini. Però ecco, la cosa principale è dare la possibilità ai piccoli di incontrare clienti internazionali. Gold Italy rappresenta ovviamente anche un appuntamento fondamentale per il comparto orafo aretino, che a oggi conta oltre 1200 aziende e 8000 addetti, distretto che nella prima parte del 2017 ha segnato un più 5,1 in termini di export. Se consideriamo che l'Italia cresce di poco più dell'1, si dovrebbe considerare in maniera ottima. In realtà non è così perché è un comparto estremamente competitivo che ancora deve recuperare importanti quote di mercato che sono state perse negli ultimi due anni. Quindi è evidente che ancora stiamo pagando il rallentamento dei mercati arabi, che erano il nostro mercato di riferimento, e dobbiamo trovare delle valide alternative per far ritornare lavoro in maniera consistente e soprattutto continuativa sul territorio. Quali mercati ci si potrebbe affacciare quindi? Sicuramente gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti possono sembrare un piccolo mercato, se guardiamo i numeri dell'export di Arezzo. In realtà sono il mercato più grande del mondo, dove l'Italia ha perso progressivamente quote di mercato. In questo momento il consumatore sta andando su un prodotto di maggiore qualità, su un prodotto tracciato ed eticamente sostenibile, e quindi sta tornando prepotentemente in Italia. Ovviamente si tratta di riposizionare i campionari e andare a rilavorare su clienti che comunque hanno modalità nettamente diverse dagli arabi.